L'evoluzione della lingua italiana al tempo dei social network. L'incontro si è svolto presso il centro d'ascolto della Fondazione DCL per approfondire le tematiche relative al processo comunicativo intergenerazionale in continua evoluzione. Riprendono gli appuntamenti del centro d'ascolto DCL di Biceglie con un primo appuntamento che riguarda anche la lingua italiana, o meglio, tutti i condizionamenti che possono esserci nella lingua e che tengono lontane anche le generazioni. Allora sì, in realtà come al solito al centro dei nostri incontri ci sono i ragazzi, abbiamo scelto gli adolescenti un po' in questa fase e quindi cercheremo di parlare con loro, di cercare di capire come parlare con loro attraverso i vari strumenti che abbiamo. Oggi parliamo della lingua, quindi intesa proprio come lingua italiana e diversi modi di parlare, ma anche in tutti gli altri appuntamenti cercheremo di trovare un modo per comunicare con loro attraverso magari i loro strumenti. Ecco, quali sono le difficoltà in questo momento? Forse anche i social network incidono in qualche modo. Beh, ma guarda, già il proprio il modo di scrivere, no? Questo modo che loro hanno di saltare le mutine o scrivere parole in maniera strana, eliminando le vocali, ci mette un po' in difficoltà. E chiaramente i social network la fanno veramente da padrone e quello è il loro mondo. Noi cerchiamo di entrare nel loro mondo, ma non sempre ci riusciamo e siamo un po' sempre ai margini, non riusciamo proprio a comunicare. Quali saranno invece i prossimi appuntamenti? Guarda, i prossimi appuntamenti ci sarà la musica, quindi parlare attraverso la musica o come la musica ci parla, il marketing, cercheremo anche di capire l'emoticon, no? Questo modo che loro hanno di scrivere, ormai non scrivono più le parole, scrivono solo attraverso i disegni. Quindi, insomma, il loro linguaggio. Quindi cerchiamo di vedere il loro modo di comunicare e cerchiamo di capirlo un po' anche noi. Ce lo facciamo spiegare da chi se ne intende. Grazie.